Ben ritrovati all'appuntamento con sale luce e minuto. Questa mattina all'udienza generale alla vigilia dell'inizio del triduo pasquale. Papa Francesco ha incentrato la sua meditazione sul tema Pasqua, la preghiera al Padre nella prova. Il Pontefice si è soffermato sulle parole con cui Gesù durante la passione ha pregato il Padre. In questa settimana santa, ha aggiunto Papa Francesco, chiediamo la grazia di trovare nell'incontro con il Padre il perdono e il coraggio di perdonare. Domani pomeriggio, nel Giovedì Santo, Papa Francesco presiderà la messa in cena domini presso la casa circondariale di Velletri. Giorgio Innocenti, il referente dell'area carcere per Caritas, parlando a Vadigammidia, ha spiegato quanto sia importante questa visita ai detenuti che ha definito un segno significativo per accettarli e farli accettare da tutta la comunità. È tutto anche per oggi, grazie, appuntamento a domani pomeriggio.